Il suo libro va considerato autobiografico? Oh, beh, mi chiedo, non è autobiografica ogni cosa. In fondo, vediamo il mondo dal minuscolo foro della nostra serratura, no? Mi viene in mente Thomas Wolfe. Avete notato, avete letto quella breve nota al lettore di una pagina all'inizio di Luke O'Mord Angel, capite di cosa parlo? Là lui dice che non siamo altro che la somma di tutti i momenti della nostra vita. E che chiunque si mette a scrivere è uno scultore che usa l'argilla della propria vita, è inevitabile. E quando io ripenso alla mia vita, niente, devo ammettere che non ho mai, che non ho avuto a che fare con le armi da fuoco, la violenza, che io ricordi, mai frequentata la politica, gli intrighi, non mi sono schiantato con un elicottero, no? La mia vita, però, dal mio punto di vista, è stata ricca di emozioni, chiaro? E ho pensato di poter scrivere un libro che descrivesse cosa significa fare un incontro speciale. Sì, perché una delle cose più eccitanti che possono capitare e che mi è capitata è l'incontro speciale, quello che crea un contatto. Io ho voluto dargli valore, cercare di catturarlo. Questo almeno è il tentativo che ho fatto e... Ma ho risposto alla sua domanda, non so se... Gliene faccio una più specifica. D'accordo. Ha mai conosciuto una ragazza francese su un treno con la quale ha poi passato la serata? Vede, per me questo non è... non è importante, capisce? Il suo è un sì. Dato che siamo in Francia e il tour promozionale finisce qui, sì. Grazie. Signor Wallace, il libro si conclude in modo ambiguo, non si capisce. I due ragazzi si rincontrano sei mesi dopo come si sono promessi al momento dell'addio? Come si sono promessi? Penso di aver già risposto. Si tratta di... di un bel test per capire se uno è romantico o è cinico. No? La prova... la prova è che lei pensa che si siano rivisti, giusto? Bene. Lei invece no, lo esclude. No. E lei lo spera ma non lo sa, non è sicuro. Per questo mi ha fatto la domanda. E secondo lei quei due si sono rivisti? O meglio, è accaduto nella vita reale? Se nella vita reale... Le risponderò come faceva sempre mio nonno, ok? Dirle questo significa buttare tutto alle ortiche. Oh, no, no. Rimane giusto il tempo per un'ultima domanda. Di cosa tratterà il suo prossimo libro? Non lo so ancora, non lo so. Pensavo... Pensavo di scrivere... Ecco, io ho sempre desiderato scrivere un libro la cui azione si svolgesse che durasse il tempo di una canzone. Tre o quattro minuti, no? Complessivamente. Il soggetto, l'idea di fondo è che c'è un tale, un uomo, che è seriamente depresso perché aveva dei sogni, voleva diventare un amante, un avventuriero, girare in motocicletta tutto il Sud America e invece è seduto a un tavolo intarsiato, mangia a ragosta, ha un lavoro invidiabile, una bella moglie, certo. Lui ha tutto quello che la gente desidera. Ma questo non gli basta. Quello che lui vuole è uno scopo da perseguire. La vera felicità è nell'agire, nel fare, giusto? Non sta nell'ottenere quello che si vuole. Insomma, lui è lì seduto e quasi nello stesso istante la sua figlia di cinque anni si arrampica sul tavolo. Lui sa di doverla far scendere perché rischia di cadere, ma c'è la canzone alla radio e lei la sta ballando con lo suo vestitino estivo. Lui abbassa lo sguardo e improvvisamente lui ha sedici anni e la sua ragazza del liceo lo ha appena riaccompagnato. A casa hanno appena perso la virginità. Lei lo ama da morire e la stessa canzone romantica la stanno dando alla radio in macchina. Al che lei si arrampica sul tetto dell'auto e inizia a ballare, lui preoccupato la guarda. È bellissima e ha sul volto un'espressione uguale a quella di sua figlia. Anzi, forse è proprio per questo che gli piace. Ecco, a questo punto capisce che non sta ricordando quel ballo. Lui è lì, si trova lì e vive quei due momenti simultaneamente. E in quell'istante magico tutta la sua vita si accavalla su se stessa e gli appare chiaro che il tempo è l'inganno. E la cosa accade continuamente e all'interno di ogni momento c'è un altro momento e tutto avviene in modo simultaneo. Ecco, questa è l'idea a grandi linee. Poi vedremo. Il nostro autore adesso deve andare in aeroporto perciò ringrazio tutti voi per essere venuti qui oggi. Ma soprattutto il signor Wallace per la sua gentilezza. Grazie. Spero di averla qui per il suo prossimo libro. Grazie. Grazie.